E adesso passiamo alla prima sorpresa di questa serata perché il prossimo brano non sarà solo un brano musicale ma sarà un brano che verrà cantato e accompagnato dalla nostra orchestra ed è il brano di cui parlava prima Paolo che attendeva Don't Cry For Me Argentina Brano musicale composto nel 1975 da Andrew Webber Posti quanti voi Don't Cry For Me Argentina 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 Grazie Elisa, Elisa merita proprio questa pausa prolungata da parte nostra, grazie, ci regali sono dei grandi primi, grazie ovviamente anche alla nostra attesa.